Cavalli che si allineano per la partenza, vedete che in molti rinunciano, così dall'esterno c'è One Way che sta sopravvanzando Maga degli Ulivi e Manu Del Pino, con Manu Del Pino che deve essere ripreso in mano, stava per sbagliare, al comando c'è One Way, adesso Manu Del Pino che va a chiedere strada su One Way che sarà ben felice di correre sotto, e così dopo 400 metri in 28 e 8, Manu Del Pino alla e a comando su One Way, poi testa in corda Maga degli Ulivi, all'esterno sposta Iagobi, seguito da Moshito Vita, poi ha spostato anche Oldenigo, si va molto piano, la corsa è lunga, Manu Del Pino, Andrea Vitaliano che percorre in 17 e mezzo questi 200 metri, sta cercando naturalmente di accorciare il più possibile la gara, l'italiano, Iagobi va a accompagnare, quindi marcia di trasferimento, i primi 800 vanno via in 1.39, c'è 35.1 per questi 400 metri, ancora due giri, la corsa così lunga, sta venendo ipertattica, Altro paletto lento, vediamo il tabellone, 16.8, Manu Del Pino, Iagobi, One Way lì sotto, all'esterno Moshito Vita in schiena, poi Oldenigo, non si vivacizza la corsa, anche quando siamo all'attacco del chilometro conclusivo, perché 16.1 questo paletto va via, e adesso andrà via la curva perché Manu Del Pino ancora è molto in mano, si va da 1.27, infatti anche questa curva va via in 16. Adesso in mezzo alla pista prova Oldenigo che sospinge Moshito Vita su Iagobi e sul Manu Del Pino, quarta ruota di Oldenigo, parziale questo è più svelto perché Manu Del Pino naturalmente reagisce, Iagobi pure e Moshito Vita anche, sposta così Ontario R, Manu Del Pino con un mezzo parziale però ha rintuzzato gli attacchi a centropista, paletto in 14.6 per Manu Del Pino che si trascina a One Way, che sembra per il momento la più pericolosa, è praticamente diventata tutta una volatona con One Way che adesso va a provare ai 400 finali su Manu Del Pino, mentre si è liberato bene Ontario R, Manu Del Pino è One Way, con lotta apertissima con Ontario R terzo in corda, Manu Del Pino al comando, One Way all'esterno, braccia e frusta per Manu Del Pino è One Way, dopo la curva in 14.5, One Way reitera l'attacco a Manu Del Pino che è stanco, One Way che sta premendo sul favorito Manu Del Pino, Manu Del Pino di dentro, One Way all'esterno, i due sul palo simultaneamente, ma Manu Del Pino probabilmente riesce a respingere One Way. Terzo posto per Ontario R, 1.17.8, 29.3, 29.7, corsa praticamente di 800 metri, la vittoria per Manu Del Pino, Andrea Vitaiano che ha respinto il tentativo di One Way, quindi due, sei, sette e poi quarto, il tredici di Moshito Vita. È tutto per la quinta del San Paolo.